Il Centro Culturale Renato Guttuso di Favara, presidente Lina Urso Gucciardino, ha comunicato i nomi dei vincitori del Premio di Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta giunto alla venticinquesima edizione. Sono stati oltre 500 i poeti e gli scrittori che, amanti dell'arte e della cultura siciliana, hanno partecipato al concorso letterario con elaborati provenienti da ogni parte d'Italia ed anche dall'estero, che sono stati esaminati dalle qualificate giurie delle varie sezioni del Premio. La cerimonia di consegna quest'anno si terrà nella prestigiosa location del Teatro Caos, Parco Letterario Luigi Pirandello di Agrigento, venerdì 28 giugno prossimo con inizio alle ore 20. Il Premio Speciale Antonio Patti andrà a Don Angelo Chillura, direttore della Biblioteca Lucchesiana di Agrigento.